1, 2, 3, 4, non è il massimo, non verrà nulla, poi stiamo peggiori, sono giocchi a Montesagri, non vi ringrazio a filmare questo gioco, siate e non siate! il treno è unico e viene sempre tirato indipendentemente dalla lunghezza è lo stesso davanti cioè se c'ho tre macchine davanti le spingo questo qua si porta questo qua praticamente si porta soltanto le macchine che c'è dietro questo qua invece spinge la prima casella che vuol fare però 1802 e le altre non si seguono questa qui esce in scena una macchina davanti non puoi fare e si tirate e non c'è la vostra scena in curva da questa curva non conoscete ti costa tre con le spingine spingine qui non c'è un'altra vediamo sento qui mentre questo qua è impossibile ciao a primo questione come sapete la possibilità di una parte di una fase di iniziata in una di sotto che vedete questo ma invece in un'altra casella questa è un'altra questa questa certo è un'altra